Soddisfazione è stata espressa dal governatore De Filippo in merito al processo di riforma della governance territoriale che sta proseguendo senza sossa e con grande spirito di perseveranza. È stato sottoscritto infatti il primo schema di convenzione tra i sindaci ed il presidente De Filippo dell'area a programma Lagonegrese Pollino, alla quale hanno aderito 26 comuni. Le aree a programma avvicineranno periferia e centro, priorità assoluta del territorio della Basilicata, detto De Filippo. Ma cosa cambia con il nuovo assetto di governance? I comuni iniziano una fase nuova di governance del nostro territorio. Dalle comunità montane pensavamo alle comunità locali. Dalle comunità locali abbiamo poi elaborato questo nuovo sistema di programmazione per la nostra area che è dato dalle aree a programma. Per il commissario della disciolta comunità montana delle Lagonegrese, Domenico Carlo Magno, presente alla sottoscrizione, l'obiettivo cardinale del nuovo strumento è quello della programmazione. Questo è uno strumento che ha come missione principale la programmazione, la programmazione delle risorse, la programmazione di tante infrastrutture mancanti, che però attraverso i fondi europei ci potranno essere, si potranno realizzare. Grazie a tutti.